Alba Parietti critica Alfonso Signorini a TV Talk TV Talk, la frecciata di Alba Parietti ad Alfonso Signorini. . La seconda edizione del Grande Fratello Vip è sulla bocca a tutti, tanto da essere uno degli argomenti trattati oggi a TV Talk, il programma che si occupa di analizzare le trasmissioni televisive che quotidianamente vanno in onda sul piccolo schermo. . 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 Tanto che ad Alba Parietti avrebbe ricordato uno storico servizio fatto qualche tempo fa dalle Iene, dove gli inviati dallo Smoking Nero rincorrevano personaggi dello spettacolo rimproverando lidiazioni non proprio corrette. . 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